Ciao ragazzi, io sono Nicodine e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida, zona Cesarini Mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Vi ricordo che ci mancano pochissimi iscritti per arrivare ai 300, quindi mi raccomando, iscrivetevi Allora, questa sfida non è stata molto facile, però alla fine siamo riusciti a concludere anche questa sfida Giocatori a un prezzo abbastanza buono, più che altro questi olandesi, come vi avevo detto in un altro episodio, costano pochissimo Come potete vedere L'unico problema, credo che ci sarà il giocatore del Real Madrid, che costerà un po' di più Non lo so Vabbè, comunque sia, ragazzi, questo ve l'ho fatto vedere Anche questo Ok, apriamo anche il pacchettino Vediamo che cosa possiamo trovare dentro Magari un row to the final Speriamo, ma non ci credo Più di tanto Zinco rari Vamonos Fatemi sapere che avete trovato voi nei pacchetti Noi nel frattempo non troviamo Un walk out Per un 83 Holbsberg Holbsberg Va bene così Ci accontentiamo La madonna La madonna Rudiger Holbsberg E Jimenez Questo che l'abbiamo usato L'abbiamo ritrovato Quindi Meglio ancora Dai Bellissimo Ragazzi Io vi ringrazio Tanto Come sempre Per aver guardato Anche questo video E noi ci vediamo Con un prossimo Ciao 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 Ciao